Ha suonato a Los Angeles al Roxy Club, che era il locale dove gente come Bowie, Fred Zappa, George Benson e altri registravano i loro dischi live, non ho altro da dire. Simone Farovo! Simone Farovo! Vai! Questa sera mi cemento anche con la voce, oltre che con la chitarra, faremo un pezzo di Edgar Winter, che si chiama Rock'n'Roll UCQ. Grazie a tutti! 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 Grazie! Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!